Oggi vedremo come usare l'empatia per capire i narcisisti. Molto bene, voglio specificare che questo si tratta comunque di un metodo di difesa, quindi non è che serve per cercare in qualche modo di empatizzare con loro, non si tratta proprio di questo. Qua cerchiamo di capire come ragionano in base alle loro azioni e per fare questo dobbiamo impersonificarli, metterci al loro posto. Dobbiamo immaginare di essere i narcisisti mentre stanno facendo le cose che stanno facendo e vi dico già, è un metodo che può essere doloroso, più che altro perché quando vi metterete a scoprire alcuni elementi rispetto ai narcisisti, capirete come vi vedono, come vi percepiscono e anche il tipo di disprezzo che hanno nei vostri confronti, per questo che dico che può essere un metodo abbastanza doloroso e vi consiglio vivamente di farlo con un amico o un'amica affidata per evitare anche di essere troppo di parte, perché magari avete un sacco di rancore, avete un sacco di rabbia nei confronti dei narcisisti, no? e quindi quando scoprirete alcune cose, imposterete la mente per cercare di accentuare questo elemento, quando in realtà potrebbe essere che ne state approfittando per sistemare i conti. Qua stiamo cercando quindi di essere più imparziali possibili, lo so che non è facile, però è per capire come ragionano e come possiamo anticipare i loro movimenti. E vi dico, con un po' di allenamento, a una certa, riuscite ad anticipare i narcisisti una settimana prima che vi facciano le cose che vi devono fare. Ripeto, ci vuole un po' di allenamento, ma è qualcosa che si può fare, decisamente. L'altro consiglio che vi do è di non fare mai questa cosa prima di andare a dormire, perché praticamente vi state sostituendo i narcisisti, è un po' come entrare nella loro mente e diventare loro. Vi dico questo perché se lo fate prima di andare a dormire, non dormirete bene. Vedrete da soli che cosa succede. Quindi, quando fate questa cosa, assicuratevi che avete un'altra attività dopo che vi permetterà di liberare la mente, di rilassarvi e di essere un po' più sereni. Perché quando cominciate ad impersonificare i narcisisti, vi dico, una cosa che noterete, avrete l'impressione di essere in guerra con tutti, avrete l'impressione di vedere i nemici a destra in manga. È un po' lo stesso metodo che usano i strateghi quando cercano di capire il loro nemico, in modo da anticipare le loro mosse. Ecco, è lo stesso principio. Per capire bene il mio nemico, devo ragionare come lui, devo mettermi al suo posto, però per fare questo bisogna avere anche tanti elementi che ci permettono di capire quali sono le caratteristiche della persona che stiamo cercando di impersonificare. Nel caso dei narcisisti, vi consiglio di prendere almeno una ventina di elementi che avete visto e che sapete che fanno parte del suo comportamento. Questo serve anche per evitare appunto di essere troppo di parte. Quindi sapete che ragiona così, ha queste caratteristiche che sono menzionate nel DSM e tutte cose che vanno in questa direzione. Quindi più elementi avete, meglio è. Perché ancora una volta, se ne avete pochi, che ne so. Decidete per esempio di fare questa impersonificazione con un narcisista che conoscete da poco e di qui avete 3-4 elementi che pensate che può confermare che questa persona sia un narcisista patologico. Se avete così pochi elementi, non riuscirete ad avere una visione a 360 gradi e sarà purtroppo molto condizionata anche dai vostri pregiudizi nei confronti di quella persona. Ed è anche per questo che consiglio vivamente di fare questa cosa con un amico o un'amica affidata che sapete che vi rimetterà in riga se provate ad andare fuori dai binari. Questo è molto importante. E eventualmente fatelo anche con due amici. L'importante è che provate ad essere oggettivi al 100%. Dopodiché comincerete a capire un sacco di cose. Perché lì vedrete veramente quali sono le idee che si nascondono dietro ai comportamenti dei narcisisti nei vostri confronti. E un'altra cosa molto importante, questa cosa fatela dopo che non vivete più con i narcisisti. Quindi da un punto di vista di convivenza, da un punto di vista di matrimonio o da un punto di vista anche di relazione, senza per forza vivere assieme. Fatelo quando non siete più in contatto con loro. Proprio per avere la mente libera, per non essere condizionati dalle varie manipolazioni che potranno fare nei vostri confronti. Quindi fatelo una volta che vi siete distaccati e volete cercare di capire ma che cos'è che muove quella persona. Serve anche per anticipare il momento in cui ritorneranno. Perché quando ritorneranno, dopo che avete fatto questo lavoro, la persona vi sarà chiara proprio a 360 gradi. La capirete ancora prima che faccia le cose che deve fare. Una delle cose che ho scoperto con questo metodo è per esempio il momento dell'anno in cui queste persone tornano. Quindi i momenti festivi, i momenti che precedono al vostro compleanno. Proprio perché sono dei momenti in cui non ci si aspetta che qualcuno abbia ancora uno stato mentale e belico. Per questo è che scegliono questi momenti qua. Perché poi se arrivano, provano a fare pace con voi e vi rifiutate, passate per una persona antipatica, per una persona che non sa dimenticare. Per questo è che i narcisisti amano tornare molto durante i periodi festivi, durante il periodo del vostro compleanno o del compleanno di qualcuno che vi è caro. Perché sa che in quel momento non potrete ritirare fuori il passato. Altrimenti passerete voi per la persona fissata, per la persona piena di rancore e cose del genere. Questo ritorno, in base alle feste, è una cosa che era saltato fuori proprio impersonificando i narcisisti, mettendosi al loro posto e cercando di capire perché voglio scegliere questo momento particolare dell'anno per tornare a parlare con lui o con lei. E lì cominciate ad avere un sacco di opzioni, no? Eventualmente cominciate anche a scrivere. Allora, scelgo Natale per tornare a parlare con lui o con lei per questo motivo qua. Fate proprio una lista dell'insieme delle motivazioni che vi sembrano ragionevoli, pensando allo stato mentale in cui si trovano i narcisisti. Quindi, che stanno molto attenti alla loro immagine, che amano sempre passare per dei buon samaritani, che amano sempre avere ragione, che amano sempre girare la frittata. Prendete tutti questi elementi e cominciate a vedere quali sono le motivazioni che vengono fuori. Poi, eventualmente, una volta che avete tipo 20 elementi, cominciate a restringere, no? Cercando proprio di rimanere con quelli che vi sembrano quelli più plausibili. In questa maniera vi dico, scopirete delle cose davvero interessanti. Quindi, provate a ricordare tutti i momenti in cui vi hanno offeso, tutti i momenti in cui vi hanno fatto qualcosa. Mettetevi nei loro pani. Siete i narcisisti in quel momento. Perché state facendo quello che state facendo? Magari che ne so. È successo di fronte ai vostri familiari? È successo di fronte a un insieme di amici? O di fronte a un certo tipo di pubblico? Ricordatevi anche la data. Perché quel giorno? Qual è stata la tempistica che ha portato al momento in cui vi ho offeso, o vi ha detto quella cosa che vi doveva dire? Come si è comportato quando siete usciti di casa? E cosa eventualmente è successo nel mentre che ha portato a questo suo comportamento? Siete nella mente dei narcisisti in tutte quelle fasi della giornata. Pensate anche alla scelta delle parole. Perché scegliere questa parola invece che quell'altra? Vedete, è proprio un lavoro di profiler per certi versi. E per fare questo, avere una fortissima empatia è molto importante. Perché poi cominciate a sentire anche quello che provano i narcisisti in quel momento lì. E il problema appunto è che quando finirete di fare questa cosa, queste sensazioni le avrete ancora per un paio di ore. Per questo che dico che preparatevi un'altra attività subito dopo, in modo da rilassarvi, in modo da pensare a qualcos'altro. Vedetela così. È un po' come essere un attore che entra nel ruolo del protagonista di una storia. Più questo protagonista sarà di una natura molto complicata, e più questo avrà un effetto sulla vostra psiche. Provate anche a fare un profilo della sua famiglia. Cercate di vedere ma qual è il suo rapporto con suo papà, con sua mamma, con i suoi fratelli o con le sue sorelle. Vedete, per certi versi è lo stesso lavoro che fanno loro nei nostri confronti. Solo che questa volta siamo noi che stiamo facendo la stessa cosa, ma non per la stessa motivazione. Loro lo fanno per manipolare, noi lo facciamo per tutelarci, per capire come ragionano e come anticipare le loro mosse. Quindi quando capirete come è il loro rapporto con i loro genitori o con i loro familiari, questo vi darà un quadro ancora più ampio rispetto alle loro motivazioni. E anche, magari, perché ha scelto proprio voi come compagno o come compagna. Perché per certi versi, oltre ad essere una fonte di rifornimento narcisistico primaria, potete essere una sorta di trofeo sociale che i narcisisti esibiscono nei confronti delle persone che sono loro vicine, quindi familiari, amici prossimi o lontani. Tutto questo vi darà un quadro molto completo del perché vi sta facendo le cose che vi sta facendo, oltre al fatto che lo fa per nutrire il suo farzo sé. Perché lì la cosa è interessante, no? Quando si approfondisce e si cerca di capire quali potrebbero essere le ulteriori motivazioni che motivano i narcisisti ad attaccarsi a noi. Questa analisi applicatela anche ai narcisisti quando ritornano, quindi siete loro. Perché state ritornando? Qual è la vostra motivazione? Perché state insistendo così tanto invece che di andare a cercare un'altra fonte di rifornimento narcisistico? E lì possono venire un sacco di motivazioni, voglia di vendetta perché avete emulato il narcisista, mancanza di altre fonti di rifornimento narcisistico, un'altra ancora, si è sentito ferito nel suo falso sé. Quindi vedete, ci possono essere un sacco di motivazioni che vengono fuori, per questo è che bisogna scriverle e poi andando riducendo le varie opzioni che vengono fuori, in base anche a come conoscete il narcisista o la narcisista con la quale avete interagito. Se volete, fate questa cosa anche con le scime volanti, quindi impersonificate le varie scime volanti che stanno sempre intorno ai narcisisti. Perché fate quello? Perché li sostenete? Quali possono essere le vostre motivazioni? Quando vi mettete nella mente delle scime volanti? Anche lì provate a vedere il profilo della famiglia delle scime volanti più vicino al narcisista. Qual è il rapporto della scime volante con i suoi genitori, con i suoi fratelli, eccetera eccetera. In questa maniera avrete un quadro completo della situazione in cui vi trovate o nella quale stanno sperando di rimettervi nel futuro, ritornando con varie false scuse per abbindolarvi e cose simili. Un'altra cosa che potete ancora fare ed estendere quest'analisi al tipo di lavoro che sta facendo il narcisista o la narcisista. Se ha cambiato molti lavori negli ultimi sei mesi, provate a mettervi nei loro pani in base alla tipologia di lavoro che hanno fatto, se avete queste informazioni ovviamente. Quindi se sapete che per un mese ha provato a fare l'agente di commercio, per esempio, siete lui o lei. Perché avete lasciato questo lavoro? Per fare magari un altro come il DJ, per esempio. E cose simili. Quindi vedete, entrate proprio nella mente dei narcisisti, ragionate come loro. E lì vi dico, comincerete veramente ad avere un quadro che vi permetterà di anticipare un sacco delle loro mosse. Questi risultati comunque non vanno applicati ai narcisisti in generale. Dovete applicarli al narcisista o alla narcisista che state analizzando in maniera specifica. Perché sì, è vero che sono molto simili fra di loro, però sono simili con delle loro caratteristiche personali. È un po' come i vari modelli di macchina che ci sono, no? Se prendete il modello di una macchina, quanti colori esistono di questa macchina? Poi questa macchina, magari se la guidate in Giappone, il volante si trova dall'altra parte rispetto a dove si trova in Italia. Vedete, è con questa ottica che dovete fare questa analisi. Prendendo gli elementi che definiscono patologicamente i narcisisti e poi aggiungere a quelli gli elementi personali che conoscete dei narcisisti in base al loro comportamento e in base a come avete visto come si sono atteggiati nei vostri confronti o nei confronti delle altre persone. Questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata. E non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo alla prossima.